Mercato delle telecomunicazioni è in grande fermento in Italia in questo momento, il PNRR è un'occasione e anche da un punto di vista tecnologico c'è questo open run che si staglia all'orizzonte. Cosa ne pensi? Penso che sia una combinazione unica, una coincidenza che ci può permettere di recuperare il gap che si è creato nell'industria delle telecomunicazioni in Italia. Il PNRR con gli aiuti della comunità europea del New Generation UI possono dare una spinta propulsiva alle imprese innovative perché uno degli obiettivi del PNRR è quello della digitalizzazione e dell'innovazione. L'open run in questo può aiutare perché è un framework, un ambiente che permette alle aziende di sviluppare software in maniera indipendente dall'hardware e scegliere anche quale parte del software e quale parte dell'hardware eventualmente sviluppare. Quindi dà la possibilità ad aziende anche innovative ma anche nuove che finora non erano completamente presenti sul mercato dei grandi player, dei cosiddetti big player che essenzialmente sono Ericsson e Nokia e Huawei di entrare nel mercato delle telecomunicazioni e alcune di queste aziende possono essere anche italiane e questo è uno stimolo e un'opportunità che dobbiamo cogliere come paese. L'open run quindi può essere uno strumento per creare un ecosistema di start-up italiane specializzate? Sicuramente proprio perché dà la possibilità di sviluppare software in maniera appunto indipendente dall'hardware ed è più facile sviluppare software che sviluppare del nuovo hardware. Quindi start-up sì probabilmente ma sicuramente aziende come la nostra come JMA che ha la possibilità avendo un'esperienza consolidata nelle comunicazioni mobili alla possibilità di iniettare questa esperienza nello sviluppo del software che è quello che abbiamo fatto con la nostra X-RUN.